Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci, all'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, hey, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere, un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie? Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli che affommano i denti nella casa... Ti avvicinano i miei occhi. Avanti, sono più bello. Oh, demonico zale. Oh, merda! No. 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 Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? C'è nessuno? E' una cosa che non va. Grazie a tutti. Sta bene? Venga duro. Torno subito. Stia indietro, non si avvicini. Ehi, ehi, basta, 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 basta. Che cazzo. Non muove se, o sparo. Dai lontano. Non muove se, o sparo. 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 Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca gioia. Non muove se, o sparo. Preciti. Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì. Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. È un poliziotto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma... Se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremmo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leone, torniamo indietro. Ma che... Porca troia. Claire, esci ora! Ma che... Ma che... Ma che... Siediti forte! Ma che... Perchè... 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 Sì! Tutto ok! Tu sei bene! Non posso stare qui, non è sicuro! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Sì, va bene! Tutto questo è assurdo! Sì! Merda. Tutti si sono trasformati. Ah, finalmente. La centrale. La centrale. La centrale. La centrale. Ehi là! Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Ci deve essere qualcuno. Operta. Davide, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita. È scritto qui. Mandate rinforzi. Corri dagli oeste. Devo trovarlo. Andiamo. Allora. 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 Grazie a tutti. 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 Aprite. Aprite questa cazzo di casa. Grazie a tutti. Ti faccio uscire. Ti faccio uscire. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Cristo! Sono ovunque! Sì! Forza! Forza! Alcatroia! Attento! Ce l'ho! Sei al sicuro? Per ora? Grazie. Marvin Branagh. Leon Kennedy. C'era un altro agente e io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato. Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot. Credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, Recluta! Devi pensare a salvarti! Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora... Prendi questo. Non posso prenderlo. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi. O scappi. Chiaro? Sì, signore. Sì, signore. Sì... ... ... ...